Ci sono i grillini locali magari, i grillini locali che fanno che chiedono a dimissioni C'è un deputato locale che si chiama Cantone di cognome, c'è il deputato regionale Marano che parla di dimissioni Ma cari ragazzi, voi siete nati da qualche mese, non avete idea che cos'è mister Bianco Se una cosa buona volete fare? Avete finito una vita di schiennice, chiedete Roma e ha mandato la casa che ha distrutto la nostra capitale Ha distrutto Roma con la sua incapacità, Roma è diventata una pattugliera E questo volo, più sei mesi ci voglio io, e adesso Roma, in sei mesi, la sistemo io Perché loro non sanno che cos'è il lavoro, che cos'è l'impegno, che cos'è la responsabilità E si diranno la tua paura, che cos'è, che non sape un'està di casa C'è un paliacicino, che cos'è quella di più What the fuck did they do?